La forza della triade sacra, perché nasce dalla terra, incarna il pensiero dell'uomo e si feconda col seme della vite. Guardatevi da chi vi racconta il vino semplicemente come un prodotto che vi spacca i coglioni e si spacca la testa sui sentori. Il vino è altro, il vino è prima di tutto l'imprinting di un rapporto indissolubile tra chi lo fa e la terra che produce l'uva. Senza terra e senza uomini il vino finisce per essere una banalità. Infatti per anni abbiamo dovuto sopportare critici, guide, punteggi che premavano i vini da falegnameria, da profumeria, i vini asfaltati. Quello non è vino, quello è al massimo merce. Mentre il vino vero è quel vino così scarso, così arido, così sudato, così interpretato che diventa irripetibile. Io credo che nonostante i numeri da Calpene Balvolti ogni bottiglia di Calpene sia in qualche misura irripetibile perché è fatta della stessa sostanza dei sogni, per dirla con Shakespeare. E sono contento di partecipare con questo premio a un segmento di questo sogno. Grazie. 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 Potteran, ma come disse Agnelli... Potteran, prego, una... Ma come disse Agnelli, ma la parola me la devo. Carlo. Sì. Giro un po' più. Ringrazio Carlo Gambi per le parole che ha riservato alla Calpene Balvolti. Vi posso confermare che è molto vero. Noi che siamo all'interno dell'azienda la mattina e la sera riscontriamo che nel nostro vino, grazie all'anima dei viticoltori, all'anima della famiglia Carpene, all'anima della squadra che lavora, all'anima di tutti coloro che sono intorno, ecco, tutte queste anime vanno dentro al vino. E' per questo che quando degustate una bottiglia di Prosecco Superiore Calpene Balvolti sentite che c'è qualcosa di particolare. Vi ringrazio, ringrazio Carlo Gambi e complimenti a lui. Grazie. Grazie a voi.